Quest'oggi torneremo ad analizzare un gameplay del primo al mondo nella modalità Ranked di Warzone 3 Ve l'ho già proposto nel canale e vi è piaciuto un sacco come player Quest'oggi ve lo porto nella sua modalità di punta, ovvero Ranked Dove farà il record del mondo sparandosi un sacco di kill, una marea di kill proprio Non ho ancora visto nulla, sono super in hype Per questo vi invito a lasciare un like, un commentino e se ancora avete fatto iscrivetevi al canale Direi di non perdersi i ghiacchieri e di entrare subito a fare questa reaction Ma prima di farciò ti invito a passare dal primissimo link che trovi in descrizione Ti collegherà direttamente al fantastico sito di Eneba.com Il miglior sito per acquistare giochi, abbonamenti e ricariche per qualsiasi tipo di console Ad un prezzo davvero super scontato, super vantaggioso Troverai un sacco di prodotti di Call of Duty, armi, skin particolari Realizzati in collaborazione con brand tipo Monster Ci sarà un elenco infinito di giochi, ovviamente PSN card scontate, Xbox card scontate anch'esse Ed inoltre potrai acquistare direttamente in negozio la tua carta regalo Eneba Da regalare agli amici, a chiunque tu voglia Che potrà utilizzare direttamente nel loro sito per comprare qualsiasi prodotto disponibile nello store Cosa stai aspettando? Dacci un'occhiata, non ne rimarrai assolutamente deluso Eneba.com, link in descrizione Non credo ci sia altro da aggiungere Quindi partirei subitissimo Premiamo start, mettiamo le cuffie E vediamo un pochino Allora, una kill, due kill Allora, io ho guardato un po' questo player durante le scorse sue live Eccetera, mentre giocava anche con Aidan Infatti questa partita è proprio con Aidan E mi sono fatto un po' una mia idea C'è questa diceria, insomma, che le lobby americane sulle ranked siano più facili Infatti molti italiani, come avrete sicuramente visto nelle live Cercano di entrare in queste partite americane Per appunto trovare delle lobby un po' più semplici E quindi di conseguenza rancare molto più facilmente Io ho guardato e mediamente mi tocca dar ragione Nel senso, questi sono dei fenomeni Cioè Aidan, Adrian sono veramente i fenomeni Poi Schoolface non lo conosco bene Quindi non posso esprimermi Però immagino sia un bel tritacarne pure lui Quindi, raga, presumo Che comunque la lobby magari mediamente Possa essere più facile rispetto a un matchmaking europeo Questo è un mio punto di vista Ovviamente non l'ho mai verificato Quindi parlo solo per sentito dire E per aver un po' visto come sono queste partite Perché attivamente, raga, si sparano minimo 20 bombe a testa a partita Quello che ho visto Pochissime volte muoiono, insomma E le lobby non sembrano, ecco, più di tanto difficili C'è da tenere un fattore in considerazione Che questi, raga, sono dei cavolo di pro... Queste pubblicità del cacchio! Dei cavolo di pro player E ve ne la stavo confando, raga Ogni volta che parlo bene di un player muore Cioè, è incredibile Sono proprio... Sono proprio un gufone Guardate Tutto hit al piede Fantastico Comunque l'altra volta ve l'ho portato in pubblica Gisbrava tipo 55 bombe Una cosa del genere E qui se ne spara Mi sembra 33 di aver letto Porco 2 Cioè, 33 in ranked È veramente incredibile Cioè, nel senso È incredibile proprio Ho guardato anche un suo video sulle impostazioni Quindi tra poco arriverà anche il mio nuovo PC Vi dico solo questo E quindi vi porterò anche un video aggiornato su delle impostazioni che andremo a provare Impostazioni interne al gioco E anche non, magari Qualche settings particolari che vi potrà servire per avere una visuale molto più pulita, eccetera Ma vedrete tutto quanto Pulla, raga Adesso ce lo gustiamo Sta usando lo Striker, mi sembra E il RAM Può essere? Vediamo RAM bellissimo Con questa colorazione qua Platinato oro Non lo so, raga, come chiamarlo Bellissimo Cioè, molto bello Cos'è, una variante? Sono abbastanza ignorante su questo Questo punto di vista Ah no, è tipo Penso Non lo so Vabbè, si sta riprendendo le sue armi Quindi Mi sembrava infatti un loadout leggermente strano HRM con RAM 7 Ok, ci sta Lo Striker, infatti, ho detto Quando è che lo stanno usando sulle ranked Ok Va Mamma mia, raga Che attacco combinato ha fatto con Aiden Eh sì, Aiden Sto confondendo con Aiden Aiden Adrian, Aiden, Aiden Cioè, raga Non è Wow, bellissimo Slide più Dropshot in questo modo Instant proprio Pulito Clean Che dire, raga Cioè, è un player Incredibile Veramente fortissimo Guardate Anche GameSense Tutto che c'ha Cioè, vederlo muoversi Per la mappa Saltare su e giù Cioè, comunque Hanno veramente un'ottima visione Non credo si tratti di cheat Posso dirlo Non credo Perché dopo un po' Che si supera un certo livello Raga, è sempre più difficile Secondo me città Però una volta che Inizia ad avere collaborazioni Cioè, adesso vi faccio un esempio Il ragazzo che mi sta facendo il pc Con cui inizierò una collaborazione Che vedrete a breve Ci sarà anche uno sconto per voi Quindi state belli sintonizzati E mi ha espressamente detto Che se vengo beccato Con un software Che non è appunto di base E viene a casa mia E mi prende il pc Mi tira due sberle E mi prende il pc Cioè, abbiamo un contratto Che appunto Prevede queste cose Quindi Il fatto che ci siano dei contratti Del genere, raga Mi fa dubitare Che tipo Che ne so Un'azienda come Pariamo un nome a caso Che ne so NVIDIA, ecco Vada a sponsorizzare Magari un player Che possa Far uso di qualcosa Cioè, ci farebbe una figura Talmente brutta Che è imbarazzante Una cosa del genere Quindi io non credo, raga Che Che questi player Utilizzino qualcosa Per il semplice Per il semplice fatto Che quando si collabora Con dei brand Secondo me Importanti C'è il rischio Ovviamente Di andare incontro A penali Oppure comunque Cioè, insomma Penali Quindi come nel mio caso Devo rispettare Delle clausole Che sono state Vi ho detto soltanto Una di queste Ovvero La restituzione del prodotto Che è quella Meno invasiva Appunto Non credo che Questi player Possano In qualche modo Barare Appunto Per poi rischiare Un sacco di penali Ovviamente Mai dire mai Perché io Non è che li conosco Personalmente Quindi Che cacchio ne so Che magari Non siano Talmente furbi Ed esperti Che facciano Lo stesso uso Di queste cose Raga Lì Sta tutto Al buon senso Se pensate che qualcuno Cheitti Non guardatelo Semplicemente Questo è il mio punto di vista Ok Vediamo un pochino Cosa si sta facendo Già 17 bombe Literalmente Se uno mi facesse vedere Questo gameplay Senza farmi vedere però Che sono in ranked Vi direi che Sembra una pubblica Se la stanno giocando Abbastanza quasi Come una pubblica A parte il modo di pushare Che quello è molto diverso Infatti Vedete c'è uno che Sta puntando verso destra L'altro un po' Più a sinistra Però sono sempre comunque Quasi Che ingaggiano Gli stessi team Perché comunque Devono prendere i punti Devono fare tante cose E Minchia Quanti Wavie ha preso Fa il triplo No ne tira uno a testa Ne tira uno alla volta Interessante Anch'io sono più Per tirarne uno alla volta Piuttosto di fare il triplo Il triplo Mi manda in Confusione Un sacco No hanno fatto il triplo Però tante volte Mi manda un po' in confusione Oh mio dio Per carità Vail Wavie Qua si vede un sacco Il game sense Guardate bene Questo raga È ciò che fa Un player Letteralmente Un sacco esperto Cioè avete visto Avete visto Questo è il centering Raga Cioè L'importanza di avere un centering Così Di poter prevedere Il nemico Di traccarlo così Senza averlo mirato Nemmeno Cioè secondo me È quello che fa Era molto facile Cioè nel senso C'era una sola finestra Quindi Lui ha fatto questa cosa Però ovviamente Si ripresenta In tanti altri frangenti Un centering Molto buono Che comunque va già In predizione Quasi Del futuro Ecco Adesso ho detto Un po' di termini strani Nel senso Quello che volevo dire È che Avere un buon puntamento Prima ancora di andare A sparare È quello che farà La differenza Poi Nell'aggancio Cioè avere un buon aggancio Non è scontato Quindi Quando magari uno Dice Minchia che è traccata E deve avere Per forza qualcosa Però Guardate il modo Che ha Di centrare Il nemico Ancora prima di entrare A sparare E Diaz Bifol È uno dei player Che secondo me Ha questa cosa Ancora più accentuata Cioè Infatti Reputo Diaz Bifol Uno dei player Più forti Con un aggancio Più mostruoso Tant'è che Quando lui gioca Senza aim assist Fa il panico Letteralmente La gente pensa Che abbia l'aim assist Lo stesso Diaz Bifol Ha questa capacità Di avere un centering Secondo me Fuori dal normale Ed è per questo Che è insomma Un extraterrestre A giocare Possiamo dire così Stiamo avvicinando Comunque Al finale della partita 26 bombe Adesso c'è un attimo Di pausa Guardate anche qua Mamma mia che traccata Traccate che In alcuni frangenti Sono impossibili da fare Perché avete visto C'era anche la ringhiera Quindi Se il nemico fosse stato Un pelo più Chinato Eccetera Non ce l'avrebbe fatta Insomma Fare sta traccata Veramente L'aim assist È molto utile Molto rotto Ma a volte Ti si rompe al contrario Se c'è un ostacolo davanti Farai molta fatica Ad uccidere il nemico A seguirlo perfettamente Perché ti si interrompe Proprio l'aiuto Quindi Immaginatevi Da un momento all'altro Tu non te l'aspetti E non hai più l'aiuto Quindi Mamma mia Gli altri due qua dietro Carica Mi sta piacendo questa partita Wow Vedete anche qui Il modo che ha avuto Di preimare L'angolo Invece Cioè tanti magari sottovalutano Queste piccole cose Ma l'importanza di queste reaction È proprio questa Capire come un pro Va ad approcciarsi Poi ad un fight Cioè Non è che ha mirato A caso Ha mirato proprio Nel punto esatto In cui il nemico Sarebbe poi uscito Ha mirato già il torace alto Eccetera Quindi tanti secondo me Sbagliano anche questa cosa Cioè La reaction alla fine Possiamo considerarla quasi come un coaching gratuito Cioè Vedere un po' quello che Fanno i pro player Per approcciare un fight Eccetera Secondo me Stra interessante Ed è anche il motivo Per cui porto queste reaction Come ho sempre detto Oltre perché mi diverte Guardare i video Cioè sono anch'io uno spettatore Mi diverte proprio Il fatto di fare la reaction Mi piace Anche imparare Dai migliori Quindi Qualche miglioria Sicuramente Come vi ho detto L'ho avuta Guardando Facendo le mie stesse reaction E quindi Sono molto contento di questo E sono contento anche Che voi le apprezzate Quindi lascia un bel like E nada 29 bombe Deve fare altre 4 Ormai siamo In endgame Vediamo un po' come se la gestione Qua ne ha due Mamma mia Mamma mia Oddio Rimane da solo Endgame Molto strano No ok No no C'è ancora Aidan C'è ancora Aidan Nice nice Sono contro Mamma mia Tutte e tre là dentro Gli ha bombardati Rischiano tantissimo Secondo me almeno due Se li stecca raga Giuro non l'ho visto Neanche uno Ma che cos'è Cioè è un bunker È pieno di finestre Di porte Non ne ha steccato neanche uno Ok Ok ci sta Ci sta L'ho visto anch'io questo Il primo un po' Questo un po' meno Sta sparando un po' Per sentito dire forse Ci sta Ci sta Ok Sai che hanno finito Mi piacerebbe vederli giocare Sulle lobby europee Cioè guardate 20-33 sedi Sembra una lobby pubblica È veramente impressionante Davvero complimenti Complimenti ad Adrian Ad Aidan E anche a Skullface Per questa mega partitona Che hanno portato Sulle ranked Fatemi sapere un pochino Come vi state trovando Voi su Warzone 3 Dopo appunto Quest'ultimo aggiornamento Ditemi anche magari Qualche classe da provare Durante le mie dirette E noi ci becchiamo Alla prossima Bella boys Ciao 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 Ciao